Sì, buonasera, benvenuti qui negli studi Telefriuli al punto. Il punto della settimana sta registrando una serie di presi posizioni sia della Lega e sia delle opposizioni che riguardano un po' le poste in bilancio, ma niente altro ancora perché le schermaglie stanno continuando in vista della ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori è cominciata già con le commissioni. Noi oggi abbiamo qui ospite l'ex sindaco di Ud, il professor Furio Ongsel. Buonasera. Buonasera professore, sapete che è un grande matematico, ma è anche adesso consigliere regionale di Open Sinistra FFG. Quindi ha cambiato ruolo da ex sindaco, amministratore diciamo così, from line a legislatore. Ecco, professore, come si trova in questa nuova veste? Guardi, essere all'opposizione è veramente molto frustrante, è una situazione davvero molto difficile e l'unica consolazione è che non faccio parte di questa maggioranza, perché in questo caso, ecco, proprio non avrei potuto sopportare. Però certamente gli effetti che si producono pur impegnandosi molto sono minimi, perché c'è ancora molto forte questo senso di campagna elettorale, questa impossibilità veramente di affrontare il dialogo. Abbiamo assistito allo smantellamento di tutte le norme possibili sulle UTI, ma non abbiamo ancora visto emergere quello che era il nuovo progetto. E dunque molto è avvenuto, anche oggi, proprio quest'oggi, abbiamo discusso, eravamo in commissione, il tema di dove sarebbero andati a finire chi avrebbe gestito il patrimonio della provincia, se la regione, se altri comuni. E anche lì il sindaco nuovo Fontanini avrebbe potuto opporsi. Io, d'altra parte, quando il governo Seracchiani aveva proposto una certa suddivisione, l'avevo stoppata. E lui oggi, diciamo, ha sostanzialmente... Ma mi faccia capire, quindi il patrimonio della provincia è andato tutto a Trieste? Beh, la proprietà sì. Uno dei punti fondamentali era che il grande palazzo, i palazzi Antonini, in particolare l'Antonini Belgrado, con tutti gli affreschi del Quaglio, no, rimanesse perlomeno di proprietà, ancorché, diciamo, poi di utilizzo, di comodato, si vede chi ne ha bisogno, certamente sono sale di rappresentanza, ma la proprietà doveva restare nel friuri. Questo diceva Fontanini e questo dicevo anch'io, e quindi io stoppai la Seracchiani. Oggi, invece, ho appreso che lui ha dato via libera alla regione, che se l'è preso, e quindi anche lui si è piegato di fronte a Trieste. Ecco, pare che questa maggioranza vada via diritta per la propria strada, no? Appunto, perché ha una... Ma, beh, anche, diciamo, uno che ha vinto ha anche il diritto e il dovere di governare. Però il clima, dopo, diciamo così, la scomparsa del compianto Romoli, mi pare che è cambiato, è diventato più decisionista, oppure è solo un'idea così che vediamo dall'esterno? Ma, io devo dire che il nuovo presidente Zanin è piuttosto, diciamo, capace. Devo dire che alla fine non è che il decisionismo poi dipenda, diciamo, da lui. Ma c'è anche il confronto, insomma. Ma c'è, certamente, non ci sono state molte occasioni di vedere, purtroppo, Romoli in azione. Abbiamo visto, appunto, però, una sostanziale, diciamo, gestione. No, il problema è la Giunta. Il problema è la Giunta che è assolutamente ancora in campagna elettorale. Cioè, le azioni, c'è questo discorso costante sui richiedenti asilo, ma anche lì non c'è un nuovo modello. Veda il vecchio piano immigrazione. Sono state eliminate tutte le azioni che erano non solo rivolte ai richiedenti asilo, ma anche, per esempio, agli immigrati di seconda generazione. Le hanno eliminate tutte. Ma non è che ci sia stato un nuovo piano immigrazione. Sostituiamo quello con questo. No, semplicemente il problema non c'è e lo neghiamo. Ma il problema c'è perché mi pare che ha avuto nel suo successore gli stessi problemi che aveva lei. Sì, io penso che sarebbero più gravi proprio perché ha smantellato alcune delle strutture che noi, con una certa fatica, in 3-4 anni avevamo messi in piedi. Cioè, non si può tutto gestire alla Cavarzerani. Ci vuole anche un po' di cosiddetta accoglienza diffusa, proprio perché sono modalità diverse per cercare di assorbire queste persone e, in qualche modo, di attendere il momento nel quale ricevono poi l'autorizzazione. Lui ha voluto smantellare tutto un settore e si troverà ad avere problemi più seri, anche perché a rinchiudere tutti alla Cavarzerani, io, diciamo, l'avevo visto, poi alla fine si è dovuto, come loro hanno fatto, riaprire la Friuli perché tutti in uno stesso, diciamo, ex caserma non riescono a starci perché si creano inevitabilmente conflitti. Ecco, senta, però io vedo che l'opposizione, sia al Comune di Udile, ma comunque anche in Regione, fa fatica a trovare un confronto interno per poter fare, diciamo, un fronte comune. Questa è una dialettica che sappiamo dopo l'elezione, principalmente quando si perde, bisogna tornare un momentino a mettere vicino i vari partiti, no? Ma lei pensa che questa, alla lunga, potrebbe danneggiare l'opposizione che è senza voce, praticamente? Eh beh, io certamente mi do molto da fare, sono relatore di minoranza in tutte le leggi e in tutte le iniziative, però, vede, sono, di fatto, ci sono quattro opposizioni. Io, ovviamente, cerco sempre di tessere un dialogo, ma non è facile. C'è la Lega, che però, in opposizione, però, sappiamo tutti che ci sono i rapporti romani. Ci sono quelli del patto, no? Del patto per i Friuli, però oggi, diciamo, si sono astenuti sul tema, per esempio, del patrimonio. Diciamo, è la pattuglia cosiddetta ceccottiana. Sì, però poi, di fatto, quasi, è venuto fuori, di nuovo, quel sentimento del 1500, no? Della zoppia grassa, per cui, appunto, l'avversario principale è Udine, più che, diciamo, gli avversari del Friuli, che è un po', diciamo, uno dei problemi di quel modo di intendere la politica. Poi c'è il PD, che non è ancora venuto fuori, come si vede, no? Il PD si trova... Il PD sconta una grave, grave crisi, no? Non ha superato quella, diciamo così, quell'arroganza che l'ha portato poi, alla fine, ad alienarsi le simpatie di tantissimi lettori. Sì, perché vediamo che anche, diciamo così... Quell'autoreferenzialità, per cui si continuano a discutere tra di loro su chi è il capo. E poi ci sono io che cerco, in qualche modo, di interpretare ancora un certo tipo di sinistra, molto legata a quelli che sono... Il PD quasi quasi non si può chiamare più di sinistra. Diciamo, il PD è un qualcosa del centro-sinistra che è rimasto, più o meno. Però vediamo che anche l'onorevole Seracchiani... Sì, da Renzi in poi... No, è anche l'asta nascente che è sparito, mi pare. Il dottor Cerno mi pare che non abbiamo sentore, no? Quindi è grave che l'opposizione non sia più... Sì, perché appunto, da Renzi in poi, questa sinistra è diventata, diciamo, più che una sinistra, è diventato un centro-sinistra che ha raccolto un po' di quello spirito che un tempo era democristiano. Quindi, di fatto, la sinistra deve ancora ritrovare questo spirito. Per quello che si sono persi i consensi, no? Si sono persi i consensi proprio, appunto, di quelli che erano i tradizionali settori che sostenevano la sinistra. La sinistra ha più quasi difeso, alla fine, no? Come abbiamo visto, il governo Renzi ha più difeso una certa logica consumistica a favore, certamente, dei grandi imprenditori, no? Dicendo, beh, sì, tanto con il consumismo ripartirà l'economia, di quello che era, diciamo, la qualità della vita degli strati più bassi. Quindi, la logica di Renzi, quando poi ha governato, non è stata una logica, purtroppo, di sinistra, nel senso tradizionale del termine, ma è stata una logica liberista. Sinta, a Udine, un successore di Ons, perché molti dicono, Ons ha forse radicalizzato troppo il fatto che andiamo contro Ons, Ons ha sbagliato. Io l'ho detto, l'ho detto pubblicamente, che lei verrà ricordata probabilmente per il mega parcheggio del Piazza Primo Maggio. Per il resto, mi pare che l'è stato avversato su molti fronti, no? Ma no, ma le cose ne abbiamo fatte tantissime. Guardi, io ho rifatto le piazze, sia Piazza San Giacomo, che Piazza 20 Settembre, erano tutte sconnesse. Io ho rifatto l'ellisse napoleonica. No, guardi, deve dire, ho fatto rotonde lì dove c'erano i morti, purtroppo, per gli incidenti stradali. Sì, ma adesso questi... C'è lo stadio anche, se vuole. Eh beh, sullo stadio... Ah sì, io tra l'altro il Carnera l'ho ristrutturato e l'ho finito, e non l'ho fatto partire io, l'hanno fatto partire quelli prima. Io però l'ho finito con tutti i problemi. Voglio vedere se le promesse di Fontanini, che ha promesso che avrebbe fatto un nuovo palazzetto dello sport, o qualcuno per lui, io voglio vedere tra cinque anni, no? Quello che succederà. Pallacanestro, se ce l'avranno oppure no. Ecco, qualcuno dei suoi, mi pare anche Venanzi, che è stato qui, ha detto, ma noi abbiamo lasciato un tesoretto a questa maggioranza di Udine, e anche un progetto, diciamo, di lavori che sono nostri. Invece Michelini dice, no, un momentino, sarà anche così, però noi li abbiamo velocizzati. Michelini deve leggersi bene le carte. Noi certamente, tutti gli investimenti che ci sono nelle strade di riparazione, sono tutte scelte che abbiamo fatto noi, perché sono state finanziate da noi, dal nostro bilancio, e ci sono le idee, diciamo, ma perché avete aspettato tanto? Ma perché prima c'era il patto di stabilità, prima non si poteva fare. Noi abbiamo dovuto ridurre innanzitutto quello che era appunto il costruire gli spazi finanziari e ridurre quelli che erano gli sbilanci tra le entrate e le uscite, cosa che siamo riusciti perfettamente a fare. Io ho dimezzato quello che era, diciamo, il debito, no, del comune di Udine. E poi ci sono importanti progetti, ci sono tutti i soldi per ristrutturare l'ex macello, tutto, quindi ci sono oltre una dozzina di milioni, poi ci sono tutti i soldi per fare la salita dalla biblioteca su al castello con l'ascensore, e praticamente il programma ex-Hongsel diventa un programma Fontanini. Ma sì, ma io sono felice perché certamente non l'abbiamo fatto per volerci legare il nome, l'abbiamo fatto per il bene dei cittadini di Udine, quindi se lo fai io sono più che felice. Allora, Udine ha perso per... Non lo vuole neanche che mi inviti al taglio del nastro, ma lo faccio in fretta. No, mi pare che avete perso per 280 voti o una cosa del genere, no? Certo, sì. Che cos'è che non ha funzionato? Perché insomma brucia sempre perdere così, però che cos'è che non ha funzionato? Ma guardi, qui c'è stata... Perché se avete fatto belle cose, come dici, insomma... Sì, però vede, bisogna alla fine anche da parte degli elettori essere attenti, se come in questo caso c'è stata un'ondata, come lei ha visto, a livello regionale, da Monfalcone, Trieste, Pordenone... Insomma, diciamo che sono cadute tutte le... Tutto, è caduto tutto, per non dire, ma visto anche in Toscana, poi poco dopo, quindi diciamo c'è un'ondata a livello nazionale, evidentemente i pendoli, no? Ci sono delle leggi di fisica generale, se vuole anche posso scrivere la formula, infatti su quello che è il tempo di periodo perché il pendolo ritorni, quindi purtroppo il pendolo è andato in quella direzione. Ecco, che periodo dobbiamo aspettare perché il pendolo ritorni? Ma io penso molto poco perché in realtà, certo, dal punto di vista istituzionale, qui ci sono di mezzo cinque anni, però penso molto poco perché non c'è dietro una progettualità. È la critica dalla quale siamo partiti. Cioè, chi adesso anche in regione ha vinto, dice no, le UTI non le vogliamo, però il problema della riforma degli enti locali è c'è. E quindi per adesso loro hanno smantellato tutto quello che era stato fatto e siamo tornati al vecchio sistema, ma tutti erano concordi che bisognava fare una riforma, che non si può andare avanti con 250 enti locali, tutti che fanno la stessa cosa e nessuno con le competenze, o pochissimi con le competenze per farlo bene, ma è evidente che qualcosa bisogna fare. Quindi vedremo il progetto sulla sanità. Di nuovo, sulle aziende ne vogliono fare tre, ma comunque ne facciano tre, vogliono definire i perimetri leggermente diversi? Sì, lo facciano, ma sono micromodifiche. La grande riforma, mi deveci dire solo questo, era proprio quella di fare non solo un'azienda in qualche modo ospedaliera e una territoriale, ma di unirle. Abbiamo sforato tantissimo. L'ultima domanda, volevo chiedere, per quanto riguarda la città di Udine, ha lasciato qualche rede, qualche rede politico? Qualcuno che in qualche modo potrà guidare la riscossa del centro-sinistra Udine? Ma individuare adesso un nome è molto difficile. Ne aveva ingiunto abbastanza. Sì, ma io credo che di nuovo uno dei problemi che ci sono stati in questa campagna elettorale è che troppo presto, forse, senza nessun discorso su primarie, io l'avevo anche detto senza nessun confronto, senza nessun contraddittorio, si è già detto chi dovrà essere il candidato, è già partito un anno prima. Alla fine questo aspetto che forse funzionava quando i partiti erano forti, oggi non funziona più, bisogna guadagnarlo sul caso. Ci sono solo comitati elettorali, in pratica. Purtroppo ci sono comitati elettorali e dal dibattito, forse, molto spesso interno, vengono fuori quelle idee, quei progetti, che magari nel segreto dell'urna vengono in mente e fanno sì che uno dica ma no, io ho fiducia in questa persona perché ha detto quella cosa in quel momento. Il discorso del partito, della logica di partito, che in questo caso ha ispirato la scelta del Partito Democratico qui a Udine, si è rivelata perdente. Bene, allora la chiacchierata con Ongsen noi l'abbiamo iniziata, questo forse è un primo tempo perché ha parlato del pendolo, ha parlato anche che la politica di centroscita riprende la quota, per cui intanto io lo ringrazio per la disponibilità che ha preso anche i suoi impegni personali, mi pare se ne sono più di prima, mi pare di aver capito. No, naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata e buona serata con i programmi Telefriuli. Grazie ancora. Buonasera.